A te nel domenica di quaresima il protagonista di questo nostro percorso quaresimale è il Vangelo di Giovanni dove viene raccontato l'episodio dell'incontro tra Gesù e Lazzaro e la sua famiglia. Gesù era molto legato a questa famiglia dei vincoli dell'affetto e dell'amicizia. Lazzaro è morto e Gesù manifesta verso di lui ma anche verso i suoi familiari tutta la sua commozione, tutta la sua vicinanza. Questo sta ad indicare come veramente Gesù è solidale non solo verso i peccatori ma anche verso tutti coloro che soffrono, che sono nel lutto, nel pianto, nella sofferenza, nel distacco. Gesù è il Dio con noi, la sua carità lo spinge veramente a un amore senza misura per cui Gesù vive in sé, nel suo cuore, nella sua vita, la vicenda umana di gioia e di sofferenze di ogni uomo e donna della terra. Gesù risuscita Lazzaro e questo racconto è un segno della futura risoluzione di Cristo. Però mentre Lazzaro muore, risorge, però muore di nuovo, Gesù muore sì, risorge ma non muore più, diventa il vivente. Risorto non muore più, anzi diventa spirito datore di vita. Perché Gesù viene a portare la vita vera, la risurrezione del cuore. Lui non solo risuscita il corpo ma risuscita l'anima, risuscita tutto l'uomo. Certo in questo nostro momento noi siamo chiamati a risorgere mediante la fede, mediante i sacramenti, mediante le opere buone da compiere, dall'uomo vecchio, dal peccato che è morte dentro di noi. Gesù ci chiama a questa nuova vita per cui noi siamo risorti nel bene, risorti nella grazia. Per cui davanti a Gesù noi siamo come Sui fratelli, per cui in Lui diventiamo figli nel figlio e possiamo guardare negli occhi non solo Gesù ma addirittura il Padre Celeste. Ma questa nostra risurrezione che riguarda la nostra interiorità e che si manifesta nelle relazioni che noi abbiamo oggi per cui siamo beati, cioè costruttori di qualcosa di bello, nella mitezza, nella fortezza, nella temperanza. Soprattutto realizzando un mondo nuovo dove alberga la pace e la giustizia e una autentica carità da vivere nella gratuità dei rapporti, questa risurrezione ci porterà poi a una risurrezione totale quando anche il nostro corpo mortale risorgerà a immagine del corpo glorioso di Cristo e anche noi saremo gloriosi in Cristo. Allora la nostra religione, il cristianesimo, è la religione della gioia, la religione della vita, la religione della pace. Chiediamo al Signore questa grazia perché sia veramente dentro di noi quella aspirazione che ciascuno ha in sé cioè il desiderio di essere migliori, il desiderio di essere nella Pasqua piena, di una felicità totale. Questo è un dono di Dio che diventa allo stesso tempo conquista. Non siamo soli, accanto a noi ci sono tanti fratelli e sorelle che vivono l'esperienza della Pasqua, l'esperienza della risurrezione, sono i santi del cielo ma anche sono le persone buone che noi incontriamo, sono anche tanti fratelli e sorelle che vivono nelle nostre comunità parrocchiali, delle nostre famiglie che lottano, sperano, amano e giuiscono grazie alla presenza di Dio. E allora non scoraggiamoci dinanzi al male presente nel mondo ma con la forza di Dio intraprendiamo la buona battaglia della fede che ci porta veramente ad assapurare su questa terra una autentica gioia che è primizia di quello che noi vedremo e gusteremo quando contempleremo faccia a faccia il Signore Gesù nella Pasqua eterna del cielo.